Precciatini stupide In passato ho messo l'errore di rispondere a persone che avevano fatto il nostro nome Per corella, per corella, bebe, bebe Mi chiamo Matt Carroll, lo poca La pasta è scotta, la besciamella è pessima Ripieno è molto poco rispetto alla grandezza del cannellone E' tutta pasta e poco ripieno Ma questa è scotta Ma scotta, scotta, scotta E poi vi dico come direbbe un vecchio saggio We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas In a Happy New Year We wish you a Merry Christmas Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stani arrivà Hello Selezionata Close Charles Close Charles E benvenuti in questa nuova trasmissione Ciao ragazzoni Noi ci siamo visti poco fa Per i presenti nella live su YouTube Tra l'altro primo episodio Ci siamo divertiti un sacco Ovviamente ci sono molte cose da sistemare Però Grazie Abbiamo fatto anche una raccolta di feedback Ovviamente c'è stato un problema Perché le loro cam erano un po' piccoline Ma con il sergente Simone Non è stata una soluzione facile Però Marta Barbie Xanax Ci ha dato una soluzione effettivamente Possiamo rimuovere la chat a schermo da YouTube Perché YouTube C'ha il comando specifico Quindi si può prendere molto spazio da lì E poi vabbè Dobbiamo comprare un microfono per il sì O sistemare qualcosina Però è stato divertente Comunque È divertente C'era un'area diversa Orario diverso Medium diverso Con la musichetta Tempi radiofonici Poi senza reaction video Abbiamo pensato un po' così A parte vabbè L'episodio di quel telecronista Ma tre secondi di video Peccato che c'era il green screen Perché c'è stata una scena Anche una certa Mi sa che si è sentito Quello off-cam Io l'ho detto Non lo so Sì sì Però se non c'era il green screen Avreste visto il cuniglio Che si cagava sotto De me che urlavo Perché c'aveva ancora il cavo L'hanno scoperto Grazie Ha fatto poverina Un salto addosso alla parete Che avrebbe fatto troppo Hai sparato tipo un bestemmione Mi hai scappato il cunio Porca madre Oh si è imparata Entranno in stanza Non so che fa Io magari sto Sto a dormire Sento Apri le porte Non si capisce come Stile veloci Raptor Di cosa avete parlato? Una sorta di rassegna stampa Stile vecchio cerbero Però in un format Come ho detto prima Più radiofonico Piano piano Comunque è disponibile Per gli abbonati di YouTube Al momento poi La metteremo libera Come al solito Grazie Esattamente come qui su Twitch Quindi repliche per qualche giorno Esclusive per gli abbonati È andata come doveva andare Sì 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 È stato molto figo Poi abbiamo altre idee Come suggeriva Dave Pure le chiamate in diretta I whatsapp in diretta Tile zanzara Sì ma poi su YouTube C'è sta Che è anche un ambiente più fresco Infatti io mi sono pure divertito A sparare le mie cazzate Perché comunque Ok che c'è sta il discorso Che abbiamo fatto Comunque che non è che su Twitch Si possono dire cose Alla fine quello là Il discorso è giusto Però se posso parlare per me Diciamo avverto Una tranquillità nella mia anima Una tranquillità che per esempio Qua su Twitch Non ho Nel senso riesco ad essere più composto Perché devo pensare A quello che dico Invece secondo me È una cosa che viene ai parti Infatti dove sto molto più a mio agio Dove non devo pensare A quel che dico Ma questa è una cosa Puramente personale Nel senso magari un altro podcaster Pensa prima a quello che dice ogni volta Io invece sto più a mio agio A fare l'esatto opposto Diciamo che la mia La mia spada È l'improvvisazione E quindi spesso Anche determinate battute So Sì E se io devo pensare Posso dire Posso dire Non posso dire Perdo il naturalezza Perdo il tempo Quindi neanche Poi lascia perdere Che in collegamento Già i tempi un po' Si perdono purtroppo Però secondo me Questa qua è una cosa fondamentale E se posso dire Su YouTube Ho quest'arma in più Scusate a tutti Quindi La cosa di fare le telefonate Mi fa stare più tranquillo Pure Oddio Questo che entra Oddio Chissà che dirà Che poi Magari tocca Risso Cia tocca tagli al voto È diverso ragazzi È un mezzo diverso Che secondo me Lascia fare questi format Che ne è una boomerata Perché come ho detto In live prima E lo ripeto Lo stampo è completamente diverso Perché noi siamo più giovani Non siamo boomer E il nostro pubblico Siete voi Quindi immagino Che di conseguenza Non sia quello che sentite All'interno delle radio I tifosi che entrano O cinquantenne Magari Che viene preso per il culo Magari Però purtroppo Non troveremo quei soggetti Quindi alla fine Eppure come hai detto Eppure uno scam E io me la sono portata da casa L'ho visto chiuso Però non so L'ho visto chiuso Quando sono entrato Se vuoi bevi Prendi Prendi Poi non so che ora lì c'ha questo Ma prendi Se c'hai un bicchiere Devo pure riempire Io non mi schifo Vai tranquillo Ma che ora lì c'ha Abdili C'ho lights Però puoi andare tranquillo Ma che devo fare Vabbè Non c'è bar Cioè fatti Non così perlomeno Non così perlomeno Poi quello che abbiamo fatto ieri Era un altro discorso Ah quello è diverso Però la serata È andata come doveva andare Fondamentalmente Grazie ragazzi Ma no ma che a me Allora partiamo subito Da questo post meraviglioso Di Mattia Pileggi L'ha proprio pubblicata lui questa Non è un meme del Reddit Hashtag Gugliardia Hashtag Fulcloristico È un genio ragazzi Cerbero che vorrei Ora a me facevano più rite Quegli altri hashtag Eh lo so Posso dire una cosa Ma secondo me Un Hashtag Dux Gugliardico Che poi Dux Come abbiamo visto Cos'era Eh non era Che cos'era Comandante No Dux Era una cosa Che avevamo visto insieme Ah integratori Ah integratori Era una linea di integratori Brasiliana Forse Sempre brasiliana Brasiliana Sì 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 Dove producono il G Diciamo che Hashtag Gugliardia Sta allo stesso piano Di hashtag Duce E Dux Diciamo nella mia mente Ecco Oggi Diciamo questo è un pensiero Molto poco fascista Secondo me Esatto Quindi stiamo a posto Spielberg ci vado Prossimamente Allora ragazzi Reddit spostato ad oggi E domani È il 24 Eh? Salutacelo quando lo vedi Spielberg Sì 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 No no Ci prendiamo un caffè In tranquillità Vabbè un coglione Come un altro Non è che No Mi ha detto io Cioè lo sai che mi ha detto Allora vabbè Lo dico Oddio aspetta che mi sono perso il soggetto Spielberg Steven Steven è un amico mio Come no Mi assumo le responsabilità Mi assumo le responsabilità Mi fa Ma c'è confidenza Mi fa Allora io verrei pure Però quel terzo Non è che brilli proprio per simpatia Eh lo so È un fan anche Bisogna fare Vabbè No non proprio fan Però qualche cifre Per la vicenda Lucas Per la vicenda Lucasfilm Mannaggia Esatto Vabbè Comunque ragazzi Sono felicissimo Perché Perché Oddio ma oggi è reddito Perché Ah Che bello Gerry Biscotti Ha droppato Una nuova bomba Io mi levo gli occhiali Esatto Io mi levo gli occhiali Cazzo Mamma mia che bello La giornata reddit Che bella notizia Gerry Biscotti ragazzi Numero uno assoluto 50 minuti No 10 minuti Ma magari 50 Ma io mi guarderei Scorrevolissimo È meglio di un film di Spielberg Tra l'altro il reddit Già per come inizia Esatto Ho grandi aspettative All'italiano Anche per il reddit Perché sono uscite fuori Belle perle Dall'ultima live Con diciamo Cicalone and Friends Allora Best of Per concludere In bellezza Il 2022 Andiamo 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 Vai Se per athlete Intendi quelli secchi secchi No Tommaccia Bebe Mi fai male sul serio Qua però Guarda che Se per athlete Intendi Ma guarda che Ma hai scuso davvero E dai Ma che strus Aspetta Dai Dobbiamo Chiede una cosa a Marco Tecnica La locandina Della reaction O la nostra No no Ok si può levare Allora grazie Grazie Giorgio Scusate E con la mano Non riesco a leggere Usate Quindi Se per athlete Intendi quelli secchi secchi No Insomma Ci sa Bebe Mi fai male sul serio Qua però Guarda che Se per athlete Intendi Ma guarda Ma hai scuso davvero E dai Ma che strusca E dai Stimicato E dai E dai E dai E dai Con quale Assuminazione E dai E dai Non riesco a leggere La natalizia Sibili E dai E dai Poi a Natale Non stremmiamolo Che lingua parla Questo ragazzo Qual è la lingua La nativa Del Papa Francisco Io sono Originale De Buenos Aires Francisco E State capendo Hai zoomato sui baffi? No, sto sottotitoli State capendo quello che dice? No, mi sa che hanno guardato i baffi Guarda proprio Cercate di spiegare una cosa interessante Con estrema difficoltà E invece qua parla di Dragostea d'Intei, no? Sentite che dice Probabilmente tu pensa che tu non conosce musica in romaniano Se ti dà un canzone in romaniano molto popolare Che tu Niente, a quanto pare sono più importanti le storie di un determinato Hai ragione No, no, mettiamo una cosa interessante No, no, no C'era quello che faceva Numa Numa Iè Vaffanculo Non ve lo meritate 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 Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai l'offeso? Prec Abbiamo un ospite speciale Per oggi 3, 2, 1 Lo Xiuderone Xiuderone abbiamo in là Ragazzi Non me lo volo a diventare il cerbero Non ci voglio a salire qua con voi Andiamo a giocare un po' a Fortnite Facciamo vedere Fare un po' di sub Oggi non siamo qua per giocare a Fortnite Cioè qualcuno ti ha detto Una panzana Poi affare in culo tua madre e tua sorella Non giochiamo a Fortnite Oggi non si gioca a Fortnite Dai! Te lo fai il caffè? Che io me ne vado Ciubito Ma che cazzo arrivo e urli? Lo sai che minuti so po' Ti ammazzo di botte Do stanni cattivi? Ma eccolo Eliminato 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 Com'è che io lo prendo con le armi Regà? Guarda come va Non c'è la mia madre Non c'è la mia madre E dietro Ma che cazzo? Miss Ma perché non lo pigliamo? Eliminato Eliminato Com'è che io lo prendo con le armi Regà? Guarda come va Oh c'è gente qui Divente qualcosa Una banana Ma perché combattere quando puoi correre su un cane? Non lo passed Cyro Attenz6 Incazione Buona Guarda 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 Non la inquadrà più Non la inquadrà Marco dai Un cane enorme Ma io l'ho appena visto Ruffini Cosa avrebbe fatto Davide Marra 13 anni Sicuramente sarebbe andato a scuola Tutti i giorni E avrebbe giocato alla playstation Un paio d'ore al giorno No Io ero costretto Da quella stronza Di Barbara Bontempi A stare due orette La playstation Come premio Spigliarmi tutte Quelle cazzo di mattina Quello che a me Fa una robbia Porca tu Veramente Il sogno Della mia adolescenza Era questo Freddo Inverno Sotto le coperte Così ghiacciato Barbara Bontempi Che mi scuote Mi percuote Così alle sei e mezza Io le faccio Mamma Oggi no Per favore E lei Vabbè Rimettite a dormire Era il mio sogno Era il mio sogno Mai successo Adesso Mai Io ti odio Barbara Neanche un giorno Dovevo avere La febbre a 40 Le ho provate tutte Col termosipone Il termomereo di merda Niente Mi sgamava sempre Era troppo intelligente Era troppo intelligente Simo Sei stato bravissimo Quanto è difficile Fare l'intro Su discord A parte che In una prova contraria Io sto là Sto con voi Guarda le proporzioni Ce stanno Più o meno Stavo a tempo con voi E bisogna Bisogna ricordare Bisogna ricordare Bisogna ricordare Quando si fa l'intro Bisogna parlare Come vedo là dietro Fermi tutti Grazie Martina A proposito È successo Un fatto molto grave Un misfatto Nello studio Cioè No Arrivo Marco Oh bella Tutto a posto Sto strozzando Devo darti una Devo darti una brutta notizia Un danno Faccio no Ti prego Marco No Prego Marco Non so bene Inquadri Inquadri Non so bene Cosa è successo Cioè No Questi Pensavamo Abbiamo pensato Molto probabilmente Non lo volevo dire Ma lo sappiamo Chi è stato È un food blogger Eh Vabbè L'hai detto Probabilmente Non diciamo chi Ma dei food blogger Sì Uno è venuto qua È de notte Cioè Sembra tipo Frutto di una Di una ginocchiata Un sasso Un sasso Come pensavo Da fuori Un sasso Da fuori Analizzando Ieri Alle 21 Non c'era Se ne siamo accorti No Sappiamo Chi è il colpevole Sì Vabbè Andiamo avanti I folletti No Dei folletti Degli ignomi I ignomi Una bottiglia Una bottiglia De vetro Se si fa così Si da termini Vabbè Vabbè Capita Capita Andiamo avanti Andiamo Dallo schermo rotto Guarda Vabbè dai Si sostituirà Perché non possiamo Avere cose belle Vabbè Tragico Simone Si compra Perché non possiamo Avere cose belle Pagarsi io Dai Carta aziendale Del CEO Vabbè Non penso costi molto No è uno schermo con l'HD Oddio forse questo qua Non è manco curvo Però è un po' bello 16 noni Lo puoi reinquadrare un attimo Più che altro il problema Sarà rinserirlo là dentro Si s'aggancia Ah s'aggancia Non è curvi È uno schermo Piccolino È uno schermo inutile Brutto in culo 18 polli Sì no è tipo Non è C'è una proporzione diversa È in 16 noni È in 16 noni O in 19 sesti Tipo una cosa del genere È bello lungo È lungo Loro ci avevano detto Che avrebbe coperto Tutta l'aria della scrivania Però è successo Io pensavo Rotto Pensavo che non funzionasse Io non pensavo Se era rotto 21 no Cioè quando voi avete detto rotto Io ho pensato Non si accende più Cioè non pensavo Se è proprio rotto Ma se è vede No è comunque utilizzabile Guarda In realtà Pensavo peggio Se vai a vedere Non si accendeva proprio Ci avete danneggiato Questo schermo Che per noi è importantissimo E va bene Ma non bazzardate mai A toccare questo schermo Che per noi è proprio La cosa più importante Del mondo Guai a chi tocca Quest'altro schermo È fondamentale In questo studio Avete capito Brutti folletti Dovete capire Che il sergente Quando è arrivato qua Ha blastato Ha blastato quello schermo Ha blastato questo schermo Ha blastato tutto lo studio Il sergente Aveva pure ragione C'eri tu no? Sì sì Perché? Dice è tutto inutile Perché sta lì È proprio Dice Di angoli È tutto pieno Ti dava fastidio Al suo animo ordinato Io non mi sento Di contraddire il sergente Mai In nessuna circostanza Ma nessuno lo ha fatto Infatti No Il sergente È superiore a chiunque Anche perché non è umano Tutti questi angoli Non si pone proprio Questi problemi Da esseri umani Quindi È così Basta Grazie Game over Andiamo avanti Prego Rection Lo fai tu Con streams Ok Ragazzi Guarda Questo è un momento importante Perché finalmente c'è Marco Questa è la rubrica Più amata Dagli italiani Eh Questa è la gag del Chitano Le gag del Chitano Un attimo una discromia Ve lo sistemare La rimanda fra poco Come vedo là dietro Ragazzi Ulli Il nostro caro amico Ha messo questo post Ah ma Ma fa il calciatore Ulli Dico Ha messo lui Il post Ma Che si lamenta Pure del razzismo In questo post Ma Che cazzo Vabbè Ma Ha visto la raipe di ieri sera È stato devastante Grazie Broth Come Broth of gold Ma l'ha giunta subito Madonna Peccato Dario Moccia Mr. Marra Dov'è che hai pensato Mr. Marra? È qua Ma che cazzo dici Vieni con me C'è Mr. Marra con un cappotto bianco gigante Cosa? 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 Ah sì Quello che aveva E poi Poi subito Cosa? Ah sì Quello che aveva L'altra Cosa? Ah sì Madonna al guinzaglio Sembrava che era una cosa Diciamo Con un nano al guinzaglio Dovevamo provocare Tipo Ma davvero è successa Stato Cosa? Sì Bellissimo A morire No Gianluca No ti vengo a salvare E ti vengo a salvare Bannatemi Ma perché dobbiamo Dovremmo bannarti Ale No no Mi sono distratto Oddio mio Bannato Allora Adesso si toccano Anche le finanze Dipendiati fissi Dave Quarta testa Ufficiale Supplente Marco Chitano Lascia 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 Secco Marco Chitano C'è un'inquadratura Dei me triste Che malossano Una strada Con i titoli E scompari Nel mare Non avevamo ancora Sentito Il comunicato stampa Di giocherone Dopo il banno Siamo Sì Si Si può Fa sentire Era divano Magari solo audio Che ne so Ma no No Mi fanno Le cose Che poi Ma che risulta Quella cosa Tipicamente Italiana Che Ma Ti va Alla fine Voi avete una forma Non a triangolo A trapezio Non la vedete La faccio vedere Vedete ragazzi Bello Sti quadratura Tipo Dolly Potessi provare Stare così Tutto il tempo Marco Stato Marco Dai Marco Tu Si vede tutto Si vede tutto Marco Forse non era Un momento giusto Ma molti Se ne saranno accorti Solo oggi Ma molti Se ne saranno accorti Solo oggi Grazie Perché uno Ci fa a caso Subito Madonna Sti quadratura Pure è stupenda Bob Ti hanno rapito Vieni qua Vieni qua Pezzo di merda Tecno Chitano Non esiste Tecno Chitano A me fa pensare Ad un sequestro Di persona In uno Sgabbuzzino Molto buio Sì sì Un film Slasher Body horror Si vede tutto Marco Forse non era Il momento giusto Un altro Che non ce l'ha fatta È David Rubino No Rubino cade È diluvio Ma lei è una ragazza Perché ridi Giallura Sta cosa è tipo La gag Non gag Più divertente Dell'anno Che qua D'avevi fatto i danni Come Rubino cade Ma vedrai bene Quello che abbiamo creato Il mod Ilicola Ma ride che c'ha Il tic su della gambetta Guarda Guarda Non so Ma c'è Io vorrei capire Quanto era alto Il radino Della jacuzzi No è rischioso Davvero E dai Ma che stronzi Delle persone Orribili Sono a me Ma è già inquadrato Che poi Più ce le pensi Più ridi Vaffanculo Mi dispiace Sghiera Ma quanti erano Lo odiamo Gerry Geni assoluto Niente Mi impedirà Di finire Le mie live Ho mai visto Per fotograffa Neanche io Ma l'ha aggiunto Gerry L'ha ricreato In CGI Arrivando indietro E ferma Cos'era Quello lavoro Era proprio Arte Arte Classica Bellissimo Stupendo Ragazzi Vedete perché Anche due video all'anno Di Gerry Biscotti Sono già un dono Per l'umanità Ma pure Rubino L'espressione La sofferenza Mentre Saccuccio È un mix Bellissimo Quell'inquadratura Proprio Però io ringrazio E tevocazione Ma poi L'ha fatto a scoprire Ma poi tanto lavoro Dietro Ragazzi Ragazzi Una delle scene Più comiche Regate Degli ultimi anni Così Accaduta Spontaneamente Bellissimo Sì sì Gerry tutto lì Nella sala De montaggio Ah Ma cosa stai facendo Figliolo Sto montando un video Per il Cerbero Ok Pornab Ok E porgono fazzoletti I genitori Di Gerry Perdono il lavoro Quattro persone Hanno citofonato No Ho flashato Perché stavate a parlare No hanno citofonato Non so Hai predetto Non l'abbia citofonato No rivediamo la live Tanto un minimo Sottofondo Ho capito Giornale Ho bannati Perdono il lavoro Quattro persone Per tre malciore Hanno citofonato Oddio Non si sente Aspetta 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 No ragazzi Ma questa è preveggenza Mi so capitato Non lo voglio dire Perché sennò paro matto Però mi so capitato E già tre volte Cristo santo Non avevano citofonato No ma te lo dico io Ma me ne sarei accorto Ce l'ho qua Ce l'ho qua Ma poi non lo senti Come cazzo si sente Non si sente nulla Ma è fortissimo il citofono Regà No che non avevano citofonato Ma già se ne sapeva Che non avevano citofonato Credono il lavoro Quattro persone Per tre malciore Hanno citofonato Oddio Simo Ti do racconta sta cosa Vai L'altra sera Mi arriva un ragazzo Mi fa Grandi grandi Io seguo il cerbero podcast Però devi dire una cosa A due dubbi Da parte mia Era diciamo Mi ha detto Oddio Una volta per salutarlo Ho accelerato il passo Lui stava sul monopattino Io gli ho urlato due dubbi Però lui non mi ha sentito Ho accelerato il passo E lui ha accelerato Diciamo molto Premodentemente Passo con questo monopattino Velocissimo Accanto ad un gruppo Di tre ragazzi Di cui mi ricordo uno Fosse Bangla L'hai trovato Dove cazzo l'hai trovato L'abbiamo cercato Per una vita Con la musica di Don Matteo In maniera spuntare Come cazzo l'hai trovato Ah penso stanno A mia storia Ma troppo Sì ma come Stavate a me Dove avevo trovato Il banglatino No no Il video di Simone Monopattino Ma tu non l'hai messo Nelle storie archiviate No 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 Jerry devi dirci qualcosa Qualcuno se l'hai salvato Ai tempi Mi ricordo Un lavoro di ricerca L'hanno rimesso sul gruppo Mi pare Che spettacolo Ah era un vecchio Best of Mamma mia Sì sì ma già c'era In un altro best of Scena ricostruita Già era stata fatta Non so se è dallo stesso Jerry o da qualcun altro Eh no ma mo penso Che farò lo switch Proprio al monopattino Me ne compro uno Mo vediamo eh Per sprecciare In quel modo Come i vecchi democchi Ah vedi Vigiene l'avevo pubblicata io Vabbè Rivendichiamo i meriti Giustamente Più che giustamente Loro sono tutti collegati Giustamente Sì 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 È una mente alveare Bravissimi Vocale uno È una mente alveare C'hanno tutti Dei banca dati Su tutti i video nostri Diciamo la verità Su vocale uno Cioè a me è capitato Di entrarci ultimamente Per sistemare le cose Insieme al Sergente Per la rive di YouTube Già resta una gioca Metal Gear Solid Allora vabbè PGN c'è sempre Il Sergente Ma l'unico Veramente Sempre presente Anche da solo In vocale uno È Sì da solo l'ho visto Furio Ho capito chi è Salve Buonasera Sempre Air Cringe Oh L'altra volta Quando sono entrato Oh carissimo Io lo amo proprio È venuto C'è sempre Ma non si sa Cioè lui attiva Secondo me Discord Con la camera Con quelli in curatura lì A volte senza Però Sempre quella stanza Lui vive in quella stanza Con Discord acceso Vive in quella stanza Se voi entrate in vocale uno Avrete De De Air Cringe Show Bellissimo Sì puoi star con lui De Riccardo Show Link in chat del nostro Discord Dove potete trovarlo Benvenuto È lì attualmente Oh Salve Salve Devo ancora Imparare la sua voce Prima di replicarla bene Benvenuto Passo con questo monopattino Velocissimo Accanto ad un gruppo di tre ragazzi Di cui mi ricordo uno Fosse banglatino Formazione Descrittiva Per dare un po' più di colore Alla scena Sì Di colore A un certo punto vedo che fanno così Quando passo io Ma mi volto E vedo sto ragazzo banglatino Con questi altri due dietro Che corrono velocissime T'immagina Ti vedi delle persone Velocissime Vanno Velocissime Ho scappato Sono più a tanto Scusa io che ho scappato Non voglio Magari Ho scappato Ho scappato Ho scappato Ma come desci? Scusa io che ho scappato Juve Dipendenza Ha un nuovo Contendente Mondocalcionews.it Comunque Calcio è figa Rubino che cerca di scrivere Bona diletta alle otta Ma si accontenta di un Bina diletta alle otta Sarà occupato Si accontenta è geniale C'ha messo a dare una mano sola Bina Ha detto poi Ad una velocità impressionante Perché Si è visto per un secondo Sto link Madonna Rubino Ti amo Un saluto agli amici Dello zoo di 105 Ciao Mazzogli Ciao Quanto state indietro Voi non sapete Guarda guarda Io Che peccato Ma veramente Guarda Voi 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 Che transizione infatti Porca troia Che spettacolo Ma poi Max Perché stava facendo quelle facce Oddio Ho visto una cosa Una cosa Attenzione Post credit Giorni di lavoro su Vegas Troppi Comunque questo è diventato un meme inossidabile Sì giorni di lavoro È bellissimo È arrivato il momento Che poi Spesso e volentieri Non è un vanto Vabbè dipende Dal prodotto finale Ma guarda Se per fare una cazzata Che magari io penso Uno ce può Non è il caso di Jerry Biscotti Vabbè Lascia un petto Non voglio essere cattivo Sì 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 È arrivato il momento Il Reddit Carichi E dai Allora Quali dobbiamo mettere I più votati Settimana Perfetto È già così Aggiorno magari Fai Aggiorno Un aggiornamento Che figo Cerbero Vediamo l'altro best off Che figo Bellissimo Bello Con Se ci fai caso Lo stesso outfit Che aveva al Cerbero Party Nel mio caso C'è un minimo di body shaving Credo Sì Un minimo Non voglio dire nulla Un po' troppo Però magari Quando ti metti i cappottoni Non che me dia fastidio E che più che altro Sembra il maestro Sembra gischianto Quando ti metti i cappottoni No ma a livello di somiglianza Non a livello di grandezza Dico pure se vedi Le fattezze Sì sì Posa nostalgica Per due dubbi Bello comunque Molto figo Molto figo Quello Quello è bello Pure se vedi il tatuaggio Cioè ci ha messo Questo l'abbiamo già visto C'è un whatsapp aperto Allora X Scusa Sai dirmi che ora sono La tua vita è attivata Ma se siete voi Ah sì Perfetto Allora c'ho una figlia Allenata la sera Ho dovuto chiudere prima Suo tecnico X Y Z C'ho due titoli mondiali Ero professionista Quando ero piscale Andavo a una curva nord Se cantavano i cori Pure questo è diventato un copypasta Comunque sul gruppo Top top Va bene Un abbraccio Al nostro caro amico Pileggi Esatto Ah è Questo l'abbiamo visto Ma io lo rivedrei Perché è veramente bellissimo Del citofono che era Scusate Non l'ho visto Io sono pacifista Fino a un certo punto Oggi sono Forzatamente pacifista Perché Perché se io oggi Sono schiaffo a uno Rega ma È bellissimo Questo l'abbiamo visto Io non sono un pusillanime Eh Sì l'avevi detta ieri È lui Ma perché l'avevo vista su Facebook È lui Ma infatti la prima volta In cui l'ho visto Nel video di Cicrono Ho detto Top Chad C'ha proprio le fattezze Craniche del Chad Il classico Con la barba perfetta Proprio Sì sì Oddio è lui Oddio Kitachu Bellissimo Sotto personaggio Una volta c'ho Io sta pure Quando viene in live Cicalua Oddio Sono quelli dei Ok Bellissimo Sono quelli della live De lunedì Allora Kitachu Kitachu Cicalua Social Boom Social Boom Pidgn Ma no Vaffanculo Ve ne siete appropriati Era uccella Uccella Ma chi l'ha fatto Una dire Cri No No Matt Flea In che senso Vabbè l'ha cambiato lui Pidgn Io l'ho chiamato uccella Ma è vero Era uccella Che poi è femmina Quindi non può essere chiamato Pidgn Ma penso vabbè Per Pidgn Vergogna Me ne siete appropriati Lo potremmo chiamare Pidgn Però Sì O Ah questo Sì Com'era sto Pokémon Uccella Questa era Sidot La generazione Che non ho visto Forse Sidot Questa è una castagna Sidot Sidot Ma che È l'evoluzione È l'evoluzione È il cannone Itmonali Ma questa Avrebbe avuto Di The Itdonali Oh comunque c'è i miei nomi Per tutti i paesi È vero Zeb È a Marcello Che ha detto A Dave Di Bulbazar Bulbazar Col cortello Capito Pilipur Ma che cos'è Che è Pilipo È Windows Ok il Pilipo di Windows Che questo era Pelipper No io qua già va abbandonato Shumpert Questo non lo conosco Questo di vista Sì Mi sa che è Lo starter Di terza Eh l'evoluzione Non ci sono mai andato A cena Ah Swampert Swampert Ma non è quello Tipo Shumpert Secondo me è un'evoluzione Tutti i Pokémon Facevano così Ma sembra tipo Un'evoluzione Terza genere Ma non è un starter Non è un'evoluzione Aggiuntiva De Wobbafett Tipo Davvero A me mi ricorda All Star Davvero Assomigliava Wobbafett Che poi diventava più grande Sembra Wobbafett Ah Mudkip Ok quindi Revoluzione Dello Star Si ma Garmy però No 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 Sui Pokémon ragazzi Massima serietà Mudkip Ma sei ormai Luki a Roma Minonna Luki a Roma è bellissimo E poi sai qual è il bello Ho riconosciuto Prima i capelli E poi Minonna Ho riconosciuto i capelli Pensate Minonna Ma che spettacolo Luki a Roma Stupendo Che è in chat Ci ha pure fatto i complimenti Per la live di Youtube Che si è vista Si è vista pure quella Ma ha scritto Subito dopo la live di Youtube Bravi tutti Bellissima live Ma sta troppo sul pezzo Tu nonna Ma come fa Ma l'ha pure scritto in chat Che noi siamo partiti Bravissimi oggi No nonna top fan Purtroppo Barbara Bontempi È ancora noi Bella nonna Aspetta i ricaricamenti L'altro giorno mi ha fatto Ma quando l'hai ricaricata La live con Cicalone Che la voglio vedere Io oggi ho letto Pure su Youtube Uno che ha scritto Vi seguo da due anni Ed è la prima volta Che vi vedo in live Io verso di lui Ho provato un odio viscerale In quel momento No Ho detto Ma questo stronzo Cioè È passato due anni A aspettare i carriamenti Non è mai Non ha mai avuto Neanche l'idea La curiosità Poi è subentrata Ovviamente Un po' di Avvocato del diavolo Di me stesso Ho detto Vabbè Magari condurrà una vita Che è proprio Magari l'orario Il cambiamento di orario Magari Cambiamento di orario A mezzogiorno Magari gliela fa Ah per l'orario Dici non per Youtube Per l'orario Non è che voglio essere fiscale Sì Sì per carità Fate quello che volete Una live Vi atta a vedere in tre anni Anfame No più che altro Tipo che ne so I boscar Tipo a me Quando mi dicono Ammazza Ma una cena fuori Non si riesce mai Lavoro alle 21 Sai Certo C'è sta Diciamo che c'è Un po' Io la terza su Youtube A proposito De cene Un pranzo Pre natalizio O dove hanno fatto Un sussino Un sussino Possiamo ancora farlo Marco Possiamo Vabbè il sushi è tipicamente natalizio Un pre capodanno Un pre capodanno L'ho fatto sbadigliare Curioso Prima di fine anno Ma certo Un sussino natalizio Io ci sto Questa è la prima live Che vedo in assoluto Nella mia storia umana Tipo sub Da 75 anni Vabbè andiamo Andiamo Perché Vabbè magari Magari ha fatto la sub Però Non seguendo le live C'è chi lo fa Per sostenerci E anche lo leggo Bello 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 No Giorni di lavoro Qui Quanti Hai capito Il nome originale Ligidung Giustamente con la bandana Della magica scena È tutto pronto Stupenda 92 minuti Della sua vita Mai chiedere ad una donna La sua età Ad un nome Il suo salario A Mattia Pileggi Se è fascista Una mano Un saluto Bellissimo Bellissimo Questo l'hanno visto Dico Prima o poi Verrà voglia La mia persona Di postare roba di qualità Ah PGN È nettamente elaborata Ma per ora Beccate sto The Rock Pileggi Che ti embruttisce duro Col Cicalone Che scruda la chat Per beccare il primo insulto Che può usare contro il Cerbero Ha fatto incetta Di consigli Cicalone Sì sì Ha andato proprio sui freebooting Ha visto le critiche E le ha fatte sue Com'è giusto che sia Tra l'altro C'è anche un lavoro di ricerca Hai capito Sì sì Sei preparato Sì sì Ha fatto bene Ha fatto bene Ha fatto bene Oddio Un tipetto particolare Eh sì Diciamo Diciamo che sei un tipetto particolare C'erano i tatuaggi più colorati Eh Gli hanno truccato i tatuaggi Hanno messo Glitterare Ah che figo Là non ho flashato Stavo di ma sono sempre così Ho messo solo il No 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 Vabbè io mi sveglio così la mattina Il trucco è questo Davide così è struccato Questo è il trucco Così è naturale Vabbè Eh lo so Vabbè Io provo a centrarlo sui tatuaggi Ok Nord PGN È bellissimo Potremmo metterlo Potremmo metterlo su YouTube come sponsor Che di Nord non ha nulla di PGN È il Vesuvio Sì sì È proprio estero Sud È proprio essere gentili Ma usiamolo su YouTube Sì Usiamolo su YouTube Nord PGN Certo Saranno contenti Come si dice estero in inglese Skyfall Skyfall Istruttore PP Ok questo che è di Ras von Trier Sto film Era Anticristo Non mi ricordo Non mi ricordo Che calzo di Pepe che tocca E questo è Will and Defoe Però non mi ricordo il film Van Gogh Ah Van Gogh Van Gogh Però non l'ho visto Ah pensa te Davvero Non l'ho visto Ha fatto Van Gogh Era triste che pioveva Non l'ho visto il film Cioè per il podcast Com'è realmente Sì La cosa dell'acquario Me lo vede Cigalone Bellissima pure quella frase State qua Un acquario stupendo Un acquario faride Sì faride Un acquario Ma ve l'abbiamo messo in effetti L'effetto acquario qualche volta Forse pure per quello Oddio facciamolo Stasera facciamolo È vero L'abbiamo messo l'acquario L'abbiamo messo dietro il mare C'era Deipo Mi ricordo non c'ero io Perché me la sono vista da casa C'è qua un acquario Ti immagino L'abbia c'è per culo Mattia Pilegienne non esiste Non può farti del male Oh mio Dio Ma che cosa Ma perché Matt Flea È fissato con PGM È un'ossessione Sì è vero Madonna mia Bello Sì È amore Sì È amore tutto su Io sono d'accordo con Franchino E forse ancora non l'ha capito Perché anche io Tutto baggato Era Flame Compre Bubulus C'è un tasto cliccato sulla tastiera Mi sarebbe Sì No No È extra qua Su Aliexpress con Cameo del Cringe C'è il cingoletto Vedi È bagnata la tastiera C'è il cingoletto Come se clicchi su solo Per le tue storie Quindi sta parlando del nulla E purtroppo Questa è la conferma Di Quello che dicevo Prova Le mettiamo prima Oppure aggiorniamo la pagina No No Giorniamo la pagina No Non credo sia Che palle Non lo so Se è bagnata la tastiera Sarà una cosa del browser Regà Non c'entra nulla Né la tastiera A me me lo fa Tipo quando me si incastra un tasto Eh ma la tastiera è libera Non c'è nessun tasto premuto Continua Ma che palle No no Quando me si incastra Io ho criticato poi Per le tue storie Quindi sta parlando del nulla E purtroppo Questa è la conferma Di Ma devo sta così Ho capito questo Però ti dico Niente Perché Perché No niente No Mò è bugato proprio il browser Se mandi in play E disattivi il bluetooth Della tastiera Prova un attimo così Con la bomb di darkura Vabbè Ma che c'entra il Mac Regà Vabbè questa volta Non è colpa del Mac Ragazzi È proprio Ma non affanque Siamo stati rubinati Siamo stati fatta apposta Magari No Che disastro Vai Vai Niente Ma perché Che p... Oh Siamo stati Siamo stati Sì sì Siamo stati Siamo stati Siamo stati Consegna avvenuta. Mano d'affan, cu. Che ne vado. Senti, sponsor, per cortesia, una parola, solo una. Ah, è lui, grande. Lui che mi sto struzzo. Il ragazzo che aveva battuto con me, sto struzzo luce. Oh, puoi parlare o no? No. Mi c***o, tira poco. Sto a fare la musica. Sto a fare la musica. Ascoltami, sponsor, tu hai pagato fior di milioni. Se non ti andavate a fare lo sponsor, non venivi qua e venire il ciappiglia in giro. Cioè, io ho tre figli, ho dovuto fare i tatti mortali. Sta qua, li mortacci. Sto a fare la musica. Sto a fare la musica. Sì, sì, bye, bye Sì, sì Non sa che ansia È stranissimo Oh, ma che cazzo è L'incubo Ero io Troppo niente sta faccia Ciao Da Sunnamek Sono quasi dei tre Sono quasi dei tre Ce la farò mai 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 Ma forse Potrei fare Gli faccio succedere Questo cazzo faccio Noi veramente Non mi posso mettere a fare i video Come tutti quanti Posso fare pure la cover de Milano Invece no Devo fare sti casini La cover de Milano De Jackson Spero non farà mai Ma ci ho pure Un po' rotto il cazzo Questi disini Mi piacciono Allora Flavio Compa Senza Motivo Dentro Il Pullman E buonanotte Al secchio Quello che vedi tu Oddio Il coronavirus Questa foto è troppo Domanda genuina Maggia Luca Bella domanda Simone Vogliamo provare a chiamarlo Proviamo 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 Sarà Buenos Aires A festeggiare Ho sbagliato la scala Ma la nuova Ma la nuova Tutta la Parla ghilia Ma questo È bello Ricordate che i squali Stanno arrivà Hello Closhards E benvenuti Madonna che trip Stranissimo Complimenti È strano Particolare Ma io voglio Fai una domanda Il grande lavoro Dietro Che si vede Bravo Kira Ma tu Hai un canale YouTube Perché magari Te lo pubblichiamo pure Se non hai un canale Possiamo anche Caricarlo sul canale Secondario Cioè Sono cose che meritano Dopo ovviamente Reddit Cioè L'esclusiva sul Reddit Perché Secondo me Devono rimanere In qualche archivio Sennò mandamelo Che te lo condividiamo Dai Beh sì ovviamente Il zio che arriva prima Per controllare Marra che butta il panino Giustamente Che non si rende conto Delle loro Guarda Luke che dice Chiudere l'anno Senza meme di Vixxon Sarebbe terribile Beh Terribilissimo C'ha perso per sempre Diciamo c'è ancora tempo Grazie Antani Sì sì C'è ancora tempo C'è ancora tempo 10 pseudonimi Secondo me Quello sì è vero È vero C'è pure persone Ah un canale Dici che è entrato Nella protezione Dei testimoni Gli hanno cambiato nome Anche sì Per i crimini di guerra Che ha commesso Sì esatto Anche la faccia Secondo me Sì si ha cambiato tutto Ormai non è più Tipo Johnny il bello Non è più una persona È un messaggio Capito quindi ormai C'è gente C'è gente Ma ha inviato lui Che un top Aspetta Chi cazzo l'ha chiamato Ma ha inviato lui Che un top player Estimate Marra E magari Io l'ovvio Che nonostante sia una Sti cazzi cosa Ma tu ti rendi conto A chi stai Di sti cazzi Ti prego Cioè Cicalone che litiga Con Franchino Sì è bellissimo Capito Le tue Facce caso Oh che palle Ma che è oggi È una tortura Ma ha inviato lui Un top player Estimate Marra Chi cazzo l'ha chiamato Ma ha inviato lui Un top player Estimate Marra E magari Sti cazzi cosa Ma tu ti rendi conto A chi stai Di sti cazzi Allora io Già l'ho detto Ma questa frase La uso sempre Per perculare Alex Che non ha visto Quindi non capisce Quando rispondo così No Dice una qualsiasi cosa Tipo Amo Che è questo termosifone I termosifoni Ma tu ti rendi conto A chi stai a di sti cazzi E rimane stunnata Ma non ti ha detto sti cazzi No Ma no Che poi In romano in realtà C'è una Dublice lettura Perché Se io ti dico Ti rendi conto A chi stai a di sti cazzi Sti cazzi Potrebbe anche essere Sti problemi Vero 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 A Milano A Milano Invece ha un altro significato Sti cazzi Cioè sarebbe il nostro Me coglioni Corrispettivo Oddio Qui c'era scritto Indovinate di chi stanno parlando Vai Tutubi e mister E quindi Ho paura Questo è un video vecchio Giustizia da so Ah Di chi stanno parlando Già ho capito Già ho capito Era brumotto Risale proprio nel Pensare Chi decide Il giusto Metro Di misura Della giustizia Sono delle persone Più sagge di noi Che hanno deciso Che ci hanno proprio Costruito la giurisprudenza Attorno alla risoluzione Dei problemi Comuni Civili O penali Che siano Non si può Farsi giustizia Da soli È moralmente Sbagliato Credo E poi ditemi poi nei commenti Se siete d'accordo o meno Se non siete d'accordo Verrete bannati Ovviamente Chiamano Ciccoloni Questi non stanno sbacciatori Non stanno sbacciatori Tranquillo Tranquillo Non c'è qual è la cosa che fa ridere E che alla fine Sta a fare più cose illegali Lui Che le persone A cui va a rompere i coglioni È proprio ironico Perché vai a rompere le palle Alle persone E non si sa Se hanno dato L'autorizzazione Tutto dormo L'ho vista abbastanza urtata E peraltro È pure scappato via Quindi anche Invasione della privacy In effetti È una cosa Molto ironica E benota Un'ipocrisia Totale Di fondo Di questo personaggio Di quello che fa Mediaticamente Una tristezza Abissare Mamma Cosa sta risolvendo Sta facendo Innevosire una persona Che si Ha fatto qualcosa di male Ma uno La sta appunto Molestando L'unica cosa Che deve fare Volesse farla È chiamare i vigili Certo Ma perché si eleva Ad un grado più alto Tu sei cittadino Quanto lui Perché sta rottura Dei coglioni Poi sempre fine Solo ed unicamente A fa il servizio Perché Non è che risolve qualcosa Questi se ne vanno Non prendono Né la multa E né Come hai detto te Imparano la lezione Ma assurdo Eh regà Cioè Vi giuro Mi sembra Un universo alternativo Ma Ma scombussolato Che poi Vedo due persone diverse Quasi nell'aspetto Che nel modo di porsi E di parlare Quindi mi ha fatto senso Eh ma soprattutto Per poi tempo fa Arsenico Cioè Hai aperto casualmente Un vecchio video di Simone O ti ricordavi Una cosa del genere No vabbè Pur io Guarda che Ci ho ripensato spesso A sto video ultimamente Sì E coerenza Scrivono Bravo C'hai ragione C'è un po' di similitudine C'è un po' di similitudine Cerbero ipocrita In questo caso No no Ma la mia più grande Ma in realtà A me Il mio essere coerente Spesso mi L'ho citato nella live Mi scama a me In primis Mi ricordo che avevi citato Brumotti A me convenirebbe A me Il mio essere corretto Ho detto mannaggia Mannaggia Luli Perché Luli Perché quando siamo andati Al McDonald Con Gianluca Mi sono ammalato Io posto No c'è la carta in bagno Io non c'ho niente Poi pazzoletti Se ci fate caso Non c'ha nessuno I pazzoletti Proprio nella vita Se ci fate caso No ma serve sempre Il pazzoletto Però non c'è mai Tranne L'unico uomo è Patrizio Pazzoletti di stoppa Di stoppa Con un tempo Sì però Diventano tipo Incrustati poi Quelli lavi no Sì è da nonno Però è vero Un po' da nonno Cazzo mi sono perso il messaggio No ce l'ho io Ce l'ho io Davide Ecco l'ho trovato Perché tanto è diventato Giancopipasta Io tra mezz'ora Me ne vado Punto Il mio post Genererà polemiche Punto Sicuro Se poi venissi bannato Per questo post Virgola Il mio ultimo messaggio È questo Due punti Chitano e Marra Vi voglio bene Flame non ti ho conosciuto Abbastanza Simone Non ti apprezzo troppo Che peccato Che se ne sta andando Questo ragazzo Così Aspetta un attimo Ma quale post Che post Sto parlando Marco Io me un cazzo Pure con Chitano Perché Chitano Mister dunque Io me un cazzo Con Chitano Io vedo un cazzo Con Chitano Perché queste cose Non le fa mai Di solito Ogni tanto Mi capito Marco ma che cazzo Fai Ma che hai fatto Davvero Che cazzo Fai Cazzo Che senso La avete conosciuto Meglio Cioè tu di solito Quando si esce Tu mi chiami Cioè voi siete usciti Con lui Che va conosciuto Meglio Non mi avete invitato A me Famo che ci siamo capiti Comunque Io non ci credo Uno conosce meglio Pure io Secondo me È una cosa Fatta apposta Organizzata apposta Per farmi Incazzare Io non ci credo Mi rifiuto Di pensare Che mister dunque Non mi stimi Bait di basso livello Bait di basso livello Dai perché Però c'ero quasi caduto Andiamo 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 avanti Poi vabbè Sarà perché lo insulto Di continuo Ma Dici che è per quello Quella di botte L'abbiamo visto Sì Sei giorni fa Sì sì L'abbiamo visto Questo pure Sei giorni fa L'abbiamo visto Sono troppo contento Ragazzi Sono troppo contento Vi posso portare Un sacco Di nuovi contenuti Madonna TG Aumento del 20% Aumenta Del 20% Il numero Di accampati A Roma Termini Cicalone Esatto Ragazzi Qualsiasi creatore Di contenuti Ha quel qualcosa Che gli fornisce Il content Appunto Che ne so Uno che tratta i pokemon Esce un nuovo gioco Stonks Stonks No? E quindi Pensate ai vari stonks Che possono avere Vari canali Dovete pensare Su cosa si basa Quel canale Allora Ma sai che però Mi viene un dubbio Cioè Non per spezzare Lancia a favore Di cicalone Ma io ho detto Un principio universale Stavo a pensare Perché ogni volta E' proprio sto meccanismo Che alla fine Per quanto parti Per fare una cosa Buona Alla fine Piano piano E' un po' Il meccanismo Dell'algoritmo Non voglio fare il boomer Che alla fine Te spigna A fare sempre un po' Di più quella cosa Che però E' Sì Io L'ho sempre detto E' quando Ma poi A livello artistico Io ti dirò Quando ti senti Costretto A dover produrre Si perde La spontaneità Della cosa iniziale Poi dipende pure Che format fai Ripeto Pure io Pure io Avevo un grado Di responsabilità Perché parlavo Di altri Quindi mettevo in mezzo Altra gente Che non ero io Quindi mi sono beccato Le conseguenze Spesso di cose Che avevo detto male Ho rettificato Ho fatto Ho ordinato Una frittura De prese Chitano 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 Grazie Grazie Non vedo fritture Grazie Massimo Bella Avevamo paura Che era cicalone No basta Con cicalone Stiamo a parlare De lui Si chiude l'anno Microfono Microfono Ricordato di cosa Stavo parlando Aspetta Scusa No no Infatti c'è una domanda Ma è meglio La frittura De pesce Sicuramente No Senti ieri Quando ho visto Cristian De Siga Sono tutto fumentato Capito Quella Vacanze su Marte Vacanze su Marte Vacanze su Marte Perché Non so se stavate A finire qualcosa Posso prendere Una sigaretta Almeno Sì Erava nella frittura Ho lasciato adesso Brad Pitt Oggi abbiamo letto Un articolo su Brad Pitt I suoi segreti I segreti Da sua bellezza Che era tipo Una marchetta Dei marchi Bellissimo Giustamente Io volevo Io volevo sapere Perché allora Accendi il mic Marco Quando vuoi Uno dei due però Che poi io ho scritto Aspetta A chi? A Cigalone? No Ho scritto Ho scritto in chat Ma si sente? Sì Sì Non c'è la doppia possibilità Eh Mo ma è confuso Lei ma ne uno Vai Era quell'altro Aspetta No fermo Ho cambiato io Vai Continua con quello Io non ho scritto chat Lui ha letta Infatti dice No Ma c'è qui O di amore Ah perché tu hai detto Tipo Ma c'hai 50 anni Ma vanno a dormire La casa del genere No Che ho detto 50 anni No Che hai detto Ho detto Vabbè basta Questa l'annata Viene a canciare Di una casa Ah è vero Ha scritto Ma questi C'hanno una casa A mezzanotte E poi E poi L'altra È iniziata a Cigalone Ho detto Vabbè Cigalone Falla finita Che faccio Che dove vieni giù No C'è odio amore Noi non ci siamo parlati Sulla live Quindi io non so Tu che cosa ne pensi Però so che l'hai vista Quindi diciamo Che ero curioso Vabbè Io le penso Io in sintesi E che E che Monetizzava E tutto Con il discorso De cash Vabbè L'ha detto lui stesso Vabbè E quella E poi lui Ci ha voluto giranturno Stiamo alzando ragazzi Ci ha voluto giranturno Dicendo Quello è il tipo De forma a te Che faccio E comunque va Però ha voluto Fare una cosa diversa Ha esagerato un po' Perché in carità Penso che L'avranno detto tutti Che sono che è un po' Esagerato Però Ma perché Non ce vai pure Della con loro a termini A fare il video Ma provo a parlare un attimo Al mic attaccato vai Prova 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 Ma è basso? Beh Arriva rosso Però te ne ho attaccato così Quando parli dopo Diciamo È sempre il solito problema Eh sì C'è la cappella No perché se arciote più Rientra troppo L'altro microfono Così sì So quelle cose Che fai Che fai Ad esempio La vita è tutto Gira tutto Purtroppo Ritorno a quello Eh sì Eh sì Vedi che fai Molte più visualizzazioni Così Lui ha fatto il format Ha visto Diciamo Faccio una cosa È come quando Ti spingi oltre È come quelli Che fanno Che ne so Sport estremi Cerca sempre Ti fa più estremo Più estremo Più estremo Importante per Marco Comunque Fallout nucleare Ma che fa Sto boomer Giustamente Cioè il meccanismo A catena Partito tutto da lì È vero Eh sì L'abbiamo visto Questo Oddio Mi amminti Con il suo padre Ti auguri Di Natale Madonna No l'abbiamo visto Questo ragazzi Ce l'aveva mandato Non in elenco L'altra volta No perché L'avete uscito un'ora fa Ma ce l'aveva mandato Non in elenco L'abbiamo visto Immagine scattata Fuori dal bunker Cerbero No ma cosa Esatto È andato esattamente così Oddio Gianluca Quando non può ordinare Il Burger King Causa mal tempo Oddio Ma io Poi lo sai che c'è Perché io Purtroppo Non essendo abbonato Non posso rivedere I VOD E repliche Esatto Io Poi alla fine Ho staccato Io poi alla fine Ho staccato Ho riattaccato Ma Dave Non stava in studio No un collegamento Ah ecco Perché non riuscivo a capire Se stava Perché Allora il giorno dopo c'era Il giorno dopo Il giorno dopo Esatto Perché Mi sono perso un attimo E ho visto che Insomma S'erano un po' Però Non ho capito bene La situazione Penso che Dave Diceva Insomma Che aveva esagerato Una cosa del genere Sì Ci hanno avuto Diciamo Un confronto Un confronto Uno screzio Vabbè Però La discussione Deve essere pure Una cosa positiva Cioè nel senso Che io posso pure Litigare con te Marra Però poi Se Uno capisce Che effettivamente Uno si dovrebbe Fa sempre Una domanda No Dall'altra parte Chi c'è Perché mi sta Di quelle cose Che nessuno Forse Magari quando si scaldano Fa Potarsi pure Magari Fama una discussione E esce fuori Che magari Cazzo Lo sai che Alla fine Ci ho discusso Ma Qualcosa no Ma qualcosa C'eva ragione Ma secondo me La discussione Simone Essendo una persona Intelligente Cioè a certo punto L'ha dovuto ammettere Però Ma è andata così Comunque È stata una discussione Che ha dato anche Molti spunti Devo dire che poi La live Nonostante il caos Perché eravamo Veramente tantissime persone Io ho visto anche Dai commenti È stata apprezzata Perché effettivamente Ci sono state due fazioni Tra virgolette Di due mondi diversi Ok Persone magari Che sono come noi In un mondo del web E che ignorano Completamente Il mondo della strada E il contrario Persone che sono nate In un contesto particolare Che ignorano il web Levato cica loro Ovviamente Che era un po' Il ponte Ma infatti La differenza Lo sai dove sta Ma infatti La differenza Lo sai dove sta Perché io parlo di me Posso parlare di altri Di esempio Io So qualcosa del web Però so pure Cose che Magari Da strada Nel senso che Tante volte Se uno è abituato A stan televisione Abituato Comunica a capire Quando può fare Terminate cose E altre Invece è un altro Che magari Lo capisce Però poi alla fine È una ruota libera Perché non si rende conto Dove è il limite E' lì che poi Si va oltre Capito Perché se tu C'hai dei personaggi Oh t'hanno regalata La sub Eccola Tutte le repliche Che vuoi Grazie Grazie per la sub Io vi ringrazio Che è Vitinia 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 Grazie a Vitinia Che è vaido Vitinia L'ha italianizzato Grazie È Vitinia No Casalberno Ce l'hai con cazzo No Sai qual è il problema È che pure a me Tante volte Adesso pure quando sto con voi Che mi dite Come ti rallenta Perché non capisci Allora Se non ci stai dentro Al meccanismo Non capisci Quello che puoi E non puoi Capito Certo Cioè se tu parti Poi non riesci a capire Dove devi fermare Boh magari Ormai è il lavoro vostro Quindi tu lo sai Esempio La stessa cosa De Dave con lui Esatto Capito Se non c'è un moderatore Comunque o qualcuno Che capisce Quando è il momento Che si può andare E il momento Che ti devi fermare E lì vai a rota libera E poi lì può succedere tutto No no ma infatti Ho visto pure Qualche commento Pochi per fortuna Che magari scrivevano No ma perché avete stoppato Nel momento Di discussione Cioè Che volete diventare Come la tv Che censura Io ho fatto no Al contrario Ho tentato Di non replicare Le trasmissioni Televisive Alla dritto E rovescio Dove Dove c'è solo In insulto Poi al di là Della forza Anche nei toni Che sicuramente Sono stati alti Però Non ci sono stati insulti Durante quella live Lì se stava scadendo Secondo me È una cosa Inutile Inutile Però la gente Stavo percependo pure io Che era il momento di chiude Ma non sapevo Diciamo Dove poter interrompere La discussione Perché più che altro Non volevo scammare Dave Che vedevo Che stava in difficoltà Nel rispondere Quindi diciamo Che Però quando ho sentito te Che hai fatto Che hai Non era costruttiva Capito Cioè Anche come diceva Canepazzo Pur avendo visioni Completamente diverse Sia noi che loro No me non stanno a capire bene Magari fate un regalo No era la live di Cicalone Che stava commentando Canepazzo da esterno Però Quello che diceva Massi Appunto era il discorso Del non essere d'accordo Però nonostante la difficoltà C'erano pareri Lì purtroppo Se stava a finire in cacciare Cicalone si era agitato Poi pure in collegamento Un casino Quindi Ma infatti Non è stato specialmente Prima con Marta Poi in riconoscenza Comunque Comunque la gente Che ascolta Che vede Esempio No E i picchi Da scorto Pure in televisione Quale so Quando la gente Discuta E litiga I giornali più venduti Sono quelli dei gossip Che dice Quello si è lasciato Quella si è messa Con quello Quello ha messo Perché la gente Gli piace A tutti Quella stessa live Ma si Quella stessa live Sta tipo quindicesima In tendenza adesso Eh capisci Ed è una live Di tre ore Quindi vuol dire Pure i commenti Sono amare Abbastanza Pure i commenti Ma guarda Già l'altro ieri Ottocento La cosa bella È che univa Diverse generazioni pure Infatti Perché esempio La mentalità Che c'è Che c'ho io Che c'è Poi avere cicalone Che c'è Poi avere pure Quei ragazzi Qua Che stava qui Marcello Cioè noi Noi abbiamo vissuto Una cosa diversa Un'epoca diversa Situazioni diverse Non c'era il web Non c'era la tastiera Non c'era quello Non c'era quell'altro Cioè esempio Esempio È un pezzo Come quando Si mette Seduto il corvo Ed è brando Lì Sul tavolo Erano tutti armati Capito Dice io Se tu imponi Bisogna Vedete Se ci riesci Poi imponi Capito È il discorso Il grande corvo Però E quello Veniva Per fatti capire Qual era il discorso È che se tu Dicevi a una persona All'anno Ottanta Vaffanculo E poi quel vaffanculo Dovevi sostenere fino alla fine Perché se no Piavi i pizzettoni Ma adesso Magari uno Te scrive A testa di minchia Vali una lira Sempre senti Magari Dall'altra parte del mondo Sono buoni tutti a scrivere No ma per esempio Ti dico che anche Questo discorso Che stai facendo Tu Io ho cercato di dirlo Poi non so Magari si è perso Un po' Una discussione a Marcello Cioè quando lui mi parlava Di codice di strada Codice di borgata Tutto quel discorso Anche sensato In certi luoghi Chiaramente devi importi Anche con la forza Se no a casa non ci torni Io ho detto Ma io queste cose le capisco Marcello Il problema era Riportare questa cosa E glorificare questa cosa Su Youtube O appunto Dopo l'atto Non condanno l'atto particolare E aggiungo che Anche lo stesso Pileggi Con il quale ovviamente Non sono d'accordo Su molte cose Mattia L'altro Mattia Sì esatto Anche lui Secondo me ha mostrato Una parte di carattere Sensibile Poi io ci ho parlato Pure per cazzi di me Infatti molti hanno detto Ma fate una live con lui Perché comunque Al netto delle idee Al netto dei modi Al netto del temperamento C'ha un suo trascorso Che può essere interessante Ma poi le persone Ricordatevi una cosa Né personale Né personale Né denigratore Né confronti dei cicalone Pure perché Come hai detto te Noi abbiamo sottolineato Il limite Secondo noi Superato Da una persona Che comunque Abbiamo sempre stimato No Cioè non è che È un attacco Perché c'è stato il cazzo No Ma a me Esempio Inizialmente La gente Quando non mi conosce Mi dice Quello mi sta sulle palle Perché io magari C'ho un modo Oppure c'ho un modo Di guardare Ma non è che lo faccio Perché io sono proprio così Poi magari Quando mi conosci Sono la persona più buona Più simpatica Più allegra Cioè quindi Le persone Bisogna conoscere Perché Non è vero Che dici È il primo impatto Ma non è così Perché le persone Le persone Vanno conosciute Vanno C'è di parlare Per capire Il pensiero E cose Andiamo avanti Sennò Andiamo lunghissimi Io stavo aspettando Simone Appena torna vediamo Reddit Leggo solo sto commento Daniele che dice Poi guardatevi il video Che ho pubblicato oggi Cicalone Un continuo citare Per pulare Le vostre argomentazioni Di martedì Fa bene Perché lo stiamo facendo Pure noi Quindi È assolutamente Quel video che è uscito oggi Eh lo vedremo Però Ma ci mancherebbe altro A noi stessi pure Lo vediamo Lo vediamo Abbiamo fatto lo stesso E facciamo lo stesso Quindi figuratevi se Stasera no Che facciamo un'altra live Stasera c'è un'altra live Però vediamo Sì sì Il 27 Quando è Eppure è un bel video Dai dai Ma lo vedo stasera Allora andiamo avanti Reddit Mo che torna i moito Con cane pazzo Dai Oh Niente Incredibile Eh abbiamo dei problemi tecnici Madonna mia Che si vede molto Di cicalone a casa Oh oh Eh non c'è l'audio Ma sti cazzi Eh vabbè Questo era il zio Aspettavo ho letto il zio Madonna mia Eh Davide Oggi è impossibile Gianluca quando non può ordinare Il burger kinghino Causa mal tempo Distano cicaloni Ma arriva in studio L'ha detto davvero Raga È una gag Pure questa Cioè mi è stata prende in giro Io non ce l'ho arrivato A sto punto Come si può Come si può Ma veramente Come si può non intervenire Dopo che senti una ragazza Dice una cosa del genere Al montaggio Ma che è sto schifo Con taglio e levare questa frase Infatti levalo Simo levalo Cioè sta roba è vergognosa Dai Invece è bella la tua Ah ma l'hanno visto Ma io sto a lavorare Tu mi stai a mancare di rispetto No Però lì per lì Vabbè che mi metto a discute Tu senti un po' A pezzo di merda Ma tu te pensi Che io sono un pupazzo di cartone Che sta dentro là Che come Cioè come se niente fosse Tu manchi di rispetto Alle persone che lavorano Eh discorso di rispetto Sì poi Eh sti cazzi Ma te te rendi conto A chi sa di sti cazzi Ma io lo dico A chi cazzo Ma te te rendi conto Ma porta rispetto A quelli più piccoli No no io porto rispetto Allà se me porti rispetto Porto rispetto Se me manchi di rispetto Puoi essere Ci puoi avere pure 25 anni Mi frega niente Ti faccio schiodame Ti capito Mettete dentro un sarcofago Ti devono portare Transilvania Prima te rompo tutto a te E poi rompo pure la macchina Che la prossima volta Eh Ti strappo tutte le orecchie Tutte e due le orecchie Tutte poi Più di due magari Tipo nel film De Tanti con tre ce ne hanno Eh sì Si può essere Può essere Quelle con tre zitti Eh atto di forza Mazza che citazione Polveroven Ma qui siamo proprio al top Mister Sborra Cerbero trailer Vai Ti non citavi a tutte le forze Polizia Ah ok Non c'è la vacanza su Marte C'era pure su vacanza De Natale Su Marte Ah Tizione colta Però no Non c'è Andiamo avanti Un momento che ho visto Bello L'interante Polizia Mani in alto Polizia Con le ombre Aiuto Aiuto Andiamo La zezza Volevo fare un discorso serio Con voi ragazzi E con la chat No grazie Lo farò lo stesso Allora Il ban per nessuno Io in realtà Come ho già detto Sono anche contrario Al principio del ban Salvo Casi eccezionali Niente Anche noi rispondevamo Ad opinioni altrui E tu stai facendo lo stesso Basta dire Cazzate Fabio Una polveria Giughiamo sullo stesso Campo da gioco O no So badare a me stessa Se continua così Presto rimarrà Senza niente Che è? Marla con la mia stessa Povero Marla Hai detto? Basta bocca Povero Marla Ma tu te rendi conto Chi sei tu qui sotto? Bravissimo Bellissimo Mi piace Mi piace Mister Sborro Che c'era scritto? Che c'era scritto? Bellissimo Dicevano i mod Ti fa attenzione Alle scritte Che c'erano per terra Pure Ma non troppo bene Che punto Io me lo rivedrò E lo metterò nei preferiti Come hanno consigliato Bellissimo Molto bello Come si chiama sto ragazzo? Guarda Giova Carbo Te lo condivido pure su Youtube Mi sa che me l'avevi mandato Pure su Instagram Molto bravo Complimenti Veramente bello No 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 Il canale intendo Grazie No veramente bello Comunque Franchino Top Pinguino Sì 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 Bello Peraltro È il film che ti stavo A far vedere L'altra volta Figo Tesi argomentativa di Ciccadone A me è piaciuto molto Quel Batman Giustamente L'ho proprio apprezzato Quel Batman Io non capivo Che c'era sempre Parlavo con la stessa voce De Franchino Quindi pensavo Che ero tipo L'alter ego No Eri Alfred Ah ok Eri Alfred Eri Alfred Lui era Il biale Era pazzo Che erano tipo Come sai Però non ho visto quel film Se c'era un personaggio Con la doppia personalità Ho immaginato quello Ok no no Ok Allora Una gif Questo l'abbiamo visto Sì L'altra volta Perché questa cosa È inammissibile Questa Un capitalista Che si rivolge A un comunista Ma che era? Cosa è inammissibile Questa È Proprietà Proprietà Privatà Le dovute precauzioni Ci sta Dillo di l'armic Dillo di l'armic Per l'armic Io quando sto giù Che Mi sentivo Mi vedo il viso tuo E risargo È quello Quando stavi sul lupus Che fa Eh però ragazzi Lasciamo perdere Dice un cazzo Sì 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 Veramente Guarda Ma sai a che era riferito? No ma Mi sono sentito Ma sai a che era riferito È bello fuori contesto Forse Io non dirlo Perché in realtà Volevo dire una cosa Però poi Mentre stavo a dir la frase Pensavo Mi sa che è meglio Che non lo dico Mi sa che è meglio Che non lo dico Alla fine non l'ho detto Ma quale video? Scusa Non ho capito Ma quello del Ma veramente guarda Il Sì 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 E dove stava Vabbè sta tipo ovunque No anche nel best of De Jerry Ah nel best of Di prima Sta qua è aperto A sinistra No perché No Eh 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 Lo sto cercando Sì sì E non solo Quando c'era Max Che mi ricordo Sì Esatto All'ubus Eccolo Eccolo No No Dopo 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 No 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 Poi a cosa stesse Volevo dire una cosa Dopo Dopo C'ha Dici No no Dopo C'ha Dici Ma dove Cazzo stava Era la fine Era Era proprio la fine Allora Eccolo 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 Era la fine Era la fine Impressionante Perché Si è visto Per un secondo Ragazzi Sto link Madonna Un saluto Dalli amici Dello zodi 105 Ragazzi Ciao Mazzoli Ciao Quanto state indietro Voi non sapete Guarda Guarda Io Che peccato Ma veramente Guarda Le fa ride Che le fa Spettacolo Parla col microfono Però è utile Mi ha fatto troppo Rite Ma così Se fosse stato naturale Che uno Doveva fare Se lo facessi apposta Non ci saresti riuscito Tipo Simone Quella là Ho scappato Quelle là Sono quelle cose Che non fa uno Eppure un'altra Che mi ha fatto rite Eppure un'altra Che mi ha fatto rite Sempre di Simone Quando stavo a discutere Con Franchino Con Franchino Taci Gianluca Per favore Era tutto irritato Sicuramente Era tutto irritato Con me Gianluca Taci per favore L'ho sentito male Perché è stato Troppo No ma non era Arrabbiato con te Che voleva rispondere Era un po' irritato Certo Era la trappola Verdudub Vabbè L'ha irritato pure Perché gliene ha detto Ah è vero Perché gliene ha detto Eh vabbè Ma gliene ha detto È vero Ma gliene ha detto Sì Vanno a parlare almeno Era per la gag Però sempre Ma quale Che non era nessuna gag Ancora con sta gag No Dico all'interno della live Quando ho detto Un personaggio scomodo Perdudub Era tutta una gag Per la roba del caso Cicalone Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Comunque non è che era Seanverdo va Action Seanverdo No va all'albergo lì Dietro l'angolo Sta al Liltone Non c'è greve Ma lei No va all'albergo lì Dietro l'angolo Sta al Liltone Questa è il lobby Questa è il suo hobby Anche a tutti i suoi privati Eh quello ho fatto Con Lundini Sì Landini Ma prendi sto microfono papà Che ne va porca Porco Dio Il giorno che Scusa Non so più vuoi Non so più vuoi Non so più vuoi Formazione professionale Scusami Ma ieri pure al colpo Io facevo a quello Trazare il microfono Pensa un po' Considerate ragazzi Che io sto a parlare So 15 giorni Che non parlo Non parli più C'è più voce? No non parlo Con chi parlo Stato 15 giorni così Quindi diamo voce A chi non ha voce Quindi quando vengo Io parlo The voice of the voiceless Come si dice Che il discorso Che mi stava a vedere Le storie mia Ho presente la sensazione Allora Guarda che Lasciamo perdere No perché Diventa una cosa Troppo profonda Eh sì esatto Stiamo qua il cringe Lo faremo in un'altra live Però perché è interessante Vorrei sentire Tu entri Centopolino Vabbè Parli con Topolino Parli con Topolino No per dire Vabbè È un modo di dire No ma Organizziamo una bella live Intimo con Canepazzo Le avventure Le avventure Che stavamo a dire Scusate Le avventure di Air Creamy Air Creamy Franchino Air Creamy Air Creamy Ricordiamo È anche Il personaggio Di Play Cerbero Pokémon Il personaggio Di Play Cerbero Ash diciamo Il nostro Ash Il protagonista Grande Io sono Air Creamy E diventerò Il Lamerato Del Pokémon Più forte In tutto il mondo Au Ehi Tu vecchio Famo A lotta Di Pokémon Aaaaa Che noia Ho perso Hai vinto Tu Chido Tu essendo Miradire Presente Eccomi Qua Alla palestra Pokémon Di Rozzano Io sono Il capopalestra Preparati E Vals Un curo Bravo Zomani Un gioco di Pokémon Hai vinto The Pacman Ti do La coppa del donno Che bello Ho vinto Eeeh Adesso Ho vinto Pubblicità Ma che è Sta Ma che è sta merda Eeeh Complicato da spiegare E' una storia lunga E' una lunga storia E' una lunga storia E' una lunga storia Era il ragazzo in gonna Che parlava E' un ragazzo speciale Il nostro fan Ragazzi oggi ho visto Un matrimonio eccezionale Eeeh Una ragazza Giapponese E' che si sposava Uno col kilt Top Un irlandese Si Lui proprio così E' scozzese Con la gonna Tutto quanto Scozzese Scozzese proprio E penso che era scozzese E che hai pensato Quando hai visto Ho pensato che Vedi Che stavamo andando avanti Le cose cambiano Prima 20 anni fa 30 anni fa Era impossibile Vedere il matrimonio Era impossibile Vedere il matrimonio Tu ci andresti In che cosa In gonna Eh Vabbè ma quella Non è una gonna Quello è proprio Un motorolo Che hanno da vestire Non è che te vesti Di parberto sordi Sul film E lì Vanno portare Al commissariato Che era vestito da donna Stai sempre sull'attenti Quando stai con la gonna Sempre Grazie Polbo Gli piaceva Vestisse da donna Nei film Sì Non solo nei film Non solo nei film Non so se ce l'hanno Post credit Attenzione però Non possiamo scammare Siamo avanti ragazzi Un attimo C'è sta una scena Dopo La fine Importante Adesso Un po' Di pubblicità Ehi Anche Tu puoi avere Il Sembero Modello Zero Comprai È Gratis Vabbè No nel senso Devi stare Vedete questo Devi stare come Scarface Tutto catafratto Devi stare Tutto catafratto Devi stare a 2000 Devi avere Monte bianco Sul tavolo Un po' di eccitanti Che devi stare Come Scarface Come Arpacino Su Scarface Quanto siamo Eh certo La battaglia La battaglia dei galli Bellissimo La battaglia che faccia L'abbiamo visto Il grande Pasolini Il demone Marresco vi scruda Dall'alto Del suo altare Fatiscente È PGN No Incredibile Bellissima Pure te Vabbè Scenografico Con l'occhiale Molto figo Molto figo Ma che ne sa Cerbero Mamma Guarda C'è Cerbero L'acquario Giustamente C'è dentro l'acquario Ci sono Le nostre sacome Dentro Sì sì Siamo noi Sì sì Eh siamo noi Ma pure questi Siamo noi Ma no Che non siamo Nella famiglia Oddio Ho flashato me stesso Nella posa Che avevano utilizzato In marra mezzo Pensate Ma poi ci stanno Due bambini Ma infatti non aveva senso Però Sto stupido Scusate Ma che è sto bambino No domani ragazzi Niente live No domani Dopodomani Niente Se ne riparla il 26 Lunedì E poi ci fermiamo 31 e 1 Vabbè Dopodomani è domenica Appunto Sì sì Ma come No No Quindi lunedì no Ma sì Come abbiamo detto prima È meglio secondo me Tornare il 27 Perché il 26 Non c'è un sacco di genere Allora il 27 Ragazzi Martedì 27 Stato Stefano È il compleanno Di mio padre Dall'altro Quindi vabbè Non avrei potuto Vabbè vabbè Martedì 27 Ma sai che è pure Perché comunque C'è sabato e domenica Natale e vigilia C'è pure per l'attività Sì sì Perfetto Martedì 27 Questione di gusti Anzi questione di gusti Vabbè ma questo È una live con me intima Ma che ti pensi Che ti metto a dire No devi stare in intimo Non è che No diveni in intimo Ah proprio Perizoma È come il film Il compagno di scuola Quando gli faccio Perfusitemi Esatto Allora Siccome tu sei Inquadrato Perizoma Cicalini Non può farti del male Bellissimo YouTube È un medium di massa E come tale Non può che Mer Ah merc Ah ho detto Meretrici Mercificarci E alienarci Pier Simone Cicalini Scritti a politici Invece che scritti Corsari Bellissimo Eh bello Devo dire Stupendo C'è anche del vero Oh Finalmente Finalmente Il video Che tutti restavamo aspettando Non vedevo l'ora La versione Dei griffin Del cerbero È un classico Ormai È vero Canepazzo Fa più citazioni Di marra Ormai È vero Ti rubino Oh Siena Sembra un po' Peter Griffin Sì 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 No l'avevo rifatto io Eri tu Eh lo so Sono anche un grande doppiatore Marco No no Rubino che cade Dalla jacuzzi Rubino che cade Dalla jacuzzi Poi devo farmi vedere Off live Un po' di follia discord Era l'ospite Allora ragazzi L'ospite Di oggi Chi sarà Capiamo un attimo Allora Tutto pronto Allora Chi è tutto pronto Tutto pronto Il delirio Tutto tale Chi è questo Sono io Sono io Sono io Ficzate gli appuramenti Ficzate gli appuramenti Ficzate gli appuramenti Tutto pronto tutti i catafratti allora chi vuole entrare chi vuole entrare per primo che vuole entrare dai su ma tu c'è che ti dico una cosa io molte volte mi sono visto la trasmissione che ho fatto dell'Ufus te piace l'Ufus? ma non ci capisco un cazzo non riesco a capirlo devi venire a giocare se giochi è facile nel senso inizio poi ho cominciato a vedere poi io dico volevo vieni a giocare fida te fida te è più facile a farsi che a dirsi secondo me cane pazzo sta a dire una merda l'Ufus no è carino no io che non Lucia dice poi si addormenta vedi poi dorme beh ma è perfetto non ci ho capito niente dopo due ore è una certa te fisole niente ce l'ho visto in cazzo vabbè però devi venire puoi capire un giorno conoscitore italiano un giorno poi se non ti piace non viene più lui ha detto così vai andiamo avanti allora mister McBacon ok è il video di Franchino McBacon cosa ripeti questo è il McBacon ok è se è chiaro no di Beckham cosa ripeti questo è il McBacon ok è se è chiaro no grazie Michael Genera Kitano è sempre stato uno di loro manca una Shiko e manca in Shiko oddio vedi essi vivono qua me ne era accorto con gli occhiali di essi vivono guarda chi sei siamo uno zombie no no sei si Roma Termini Bat Chica e Frank giustamente comunque Simone tranquillo non può piovere per sempre madonna oggi proprio grazie il corvo di nuovo ne avevo bisogno oggi grazie guarda che c'è un doppio allora Simone che si trova alla macchina rigata Cicalone in strada che passa ok Cerbero Ciazzolo Emoticon Mod e VIP che blastano tranquilli in chat Cicalò che blasta Barbie Dave che appare su Discord piena di colpi di scena molto interessante Marcello non ho capito se poi la banana o la nocciolina greve mi risolve prepotenza mio personale che coltivo da quando sono piccolo ok secondo me è più infame chi la subisce la prepotenza di chi la fa perché chi la fa è proprio un infame zozzone il prepotente è il vero non lo so il peggio essere di questo mondo ma il vigliacco che subisce la prepotenza ok e fa finta di niente e va a casa andrebbe punito di più del prepotente perché se il vigliacco non c'era non c'era il vigliacco non c'era 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 Filippo però Filippo 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 quello proprio di Sky vabbè alla fine ti fa una cosa giusta una cosa giusta cioè no nel senso che no una cosa giusta quello che stavo a dire è che è una cosa che è giusta perché vabbè ma è normale allora chi te fa le prepotenze un prepotente il prepotente fanno le prepotenze fanno la famosa il famoso detto dei cosi piccolo montaggio di io durante la live che dica Marcello Marcello io purtroppo un po' empatizzo perché mi ricordi per certi aspetti mio padre ma no le prepotenze fanno però il raga ha detto una cosa sbagliata comunque vabbè mi ha reso felice le prepotenze a chi vengono fatti ho empatizzato bene scusami a quello che te rompe le prepotenze a chi le fanno a quello che te rompe i ghiappetti guard debole si però se il debole non è in grado non è che diventa una merda ho capito però hai visto quello che succede pure tra i ragazzi che firmano dei schiaffi davanti a tutti e non c'è una reazione ma secondo me il discorso è un altro ma quello potrebbe essere un discorso motivazionale però a farlo passare una merda no ha detto lui ma io non sto a te io sto rispondendo alla frase che ha detto Marcello detto così può avere tante sfaccettature no non ho capito Conte è la legittima difesa è stimolare un ragazzo anche a difendersi però Conte è il victim blaming era un ragazzo avevo 16 17 anni ero un ragazzino fanno una discussione dei ragazzi molto più grandi di me io mi ricordo se fosse adesso c'era un ragazzo che stava con due ragazze e c'erano questi 3 4 burloni che stavano dentro la macchina faceva venire i spiritosi cose e tutto quanto allora una delle ragazze scende dalla macchina a quante volte è capitato che apri lo sportello e magari è visto o perché e in momenti prende la macchina di questo questo che guidava io stavo proprio al bar è così mi sono vista la scena io stavo al bar stavo a 10 metri 15 metri cioè ci divide per marcia pietà la strada e loro quindi io ho visto tutto e sentito tutto quella gli ha detto vabbè non è successo niente questi sono scesi dalla macchina non è che stava con quel poraccio che guidava che aveva parcheggiato non c'entrava niente solo perché stava con quei due vabbè ma chiudiamo anche perché io dopo devo andare via che poi c'è un'altra live però quelli erano dei perpotenti ma il discorso è che un punto è stimolare magari il figlio a provare a difendersi da solo quando subisce un abuso il conto è dire capito sei un infame perché non ti dice come dire come ho letto la donna stuprata sei più infame te che ti sei fatto stuprata io voglio dire però se capite al posto sbagliato al momento sbagliato e non c'è una reazione perché comunque c'è un'educazione che sei contro la violenza contro però ti arrivano tutti schiaffi da questi da due tre magari ti impaurisci e non c'è una reazione perché mica tutti c'è una reazione e chi ce l'ha io non schiaffo mi metto paura ci stanno altre tre persone sono quattro io mi metto più schiaffi io magari non c'è una reazione e quelli vedono che dice questo non c'è una reazione continuano cioè capito è quella cosa sbagliata quello voglio dire capito cioè nel senso che se non c'è una reazione c'è l'approfittamento poi della persona in che modo sei più infame se non reagisci no gli infami sono loro che vedono che io non c'ho una reazione e mi continuano a menare certo è felice uno deve il fatto vabbè ma quello che ho capito bene quello che dici tu è l'evidenza potrebbe essere diverso è una cosa diversa da quella che ha detto è una cosa diversa perché in tante volte ho per paura ho per educazione perché non sei abituato a certe situazioni e ti chiudi e questi vedono 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 che tu non c'è una reazione si approfittano e si fanno grandi come dicono magari il branco sono più persone hanno un'arma magari quelle persone prendi come io sennò devo fare tre citazioni di firma quella con Tom Cruise quando quello gli fa siete in quattro allora c'è un capo c'è un capo branco se elimino il capo branco c'è star vice una volta eliminato il vice quell'altro c'è gente che scappa allora io menasti tu e l'altro i quattro se ne vanno andiamo avanti che devo andare via forse è un po' a ritardo ok un braccio di ferro tra Simone e Franchino io il dietro le quinte ok top giustamente sempre con l'acquario fatalità quella foto si sposa bene con l'acquario a quanto sembra già due persone che hanno avuto lo stesso meme che secondo me è il nuovo Vixxon o sta lì lì cercatelo sempre no cercatelo secondo me ci sta per il live Pummel Pory non conosco sto gioco ma te lo sai chi pari Joker sei più Joker che te nel disegnino ma infatti pensavo fosse Joker ti giuro su Dio volevo fare un meme e l'avevo fatto avevo fatto tre versioni ma nessuno di queste mi convincevo ho già postato altri meme che non mi convincevano appieno ma questo mi cringiava proprio tanto dunque ho deciso di non farlo e di postare questa immagine bianca ci ho provato davvero non andava va bene accettiamo no no lo fanno apposta per farmi incazzare non è possibile che cazzo di poste è no secondo me non l'ha fatto apposta dai no Spino lo conosco pure Spino non è possibile però sai che per far capire questa settimana non ho fatto nessun post è una protesta è artistica è artistica perché comunque sono persone che fanno ogni settimana un post quindi magari non avendolo fatto forse no vabbè ma io apprezzo no no ma magari nella loro community c'è qualcuno a cui importa no vabbè ma è apprezzabile magari sì sì nel meme capito no mi fa piacere che vi importi così tanto vabbè ma io rispetto comunque bravo assolutamente allora intelligenza artificiale per creare i titoli di Juve Dipendenza magari sbuciona sotto il reggisero non copre niente si vede tutto comunque per Diana sotto il vestitino niente madonna quanti oddio tutta ingoblinita sotto la coperta è uno spettacolo ma è fighissima sta cosa è un algoritmo ma forse già lo usano forse già lo usano forse già esiste la mettiamo alla fine questa la mettiamo dopo la apro le competenze della Cicalones Gang ok ci sta già che c'hai tutti i macchinoni per me sei competente Fausto e Furio ma chi è questa persona oh mio Dio scompare durante escursione dopo mesi di ricerca si fa vivo volevo mi credessero morto pure io è il due dubbi diciamo sostitutivo Michael Zena è il clone meme Deadpool She-Hulk giubbotto rompere la quarta parete bravo poi ok che taglio sta cosa sto fatta oddio C ti va in guerra sì io sono la vippa su questi pure io io mi pare levati levati no? ma che levati no io sono una frana con sta roba oddio questo è difficile io non c'ero germi qualcosa c'è la germi quello dei germi mi è disinfettare ma l'hai cacciato cosa? serve del disinfettante top ma perché mi sono dovuto ricordare che ho detto io ah l'avevi detto tu e poi mi ricordo sì figa c'hai ragione bravo bravo Michael Zena fighe molto fighe uno può portare alla luce delle cose delle informazioni no? poi chiaramente il finanziere è quello che deve prendere i provvedimenti quando ha franchino con cortesserino però portare alla luce una determinata cosa non è che ero chacciato ma hanno proprio tolto internet a casa quel momento sì 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 American Cycle è diventato super meme adesso con tutte le cose Sigma sì raga ho lo sguardo vuoto di chi è morto bellissimo 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 l'ho visto ma come stai tutto bene non mi ero accorto che era chacciato perché io ho fatto si può vada apposta ho creato un canale idea rubata Cerbero Podcast Waiting Room bella starterò la live circa non la prima dell'inizio riproduzione più classici brani mashup a tema Cerbero ok su Twitch Cerbero Waiting Room dai ragazzuoli per augurarvi buone feste rispolverato dei video che avevo creato nel lontano 2020 quando ancora eravate in camera ah l'inme che ha detto l'ennesima coglione va bene che cazzata ma che è ecco mo così cane pazzo vedrà Rubino oddio no no funziona ma che è il Chitano oh mio Dio Chitano e Rubino Chitano e Rubino ma perché è così basso ma siete pazzi che stai forse l'ha caricato tipo adesso parla un po' che vuol dire è basso oh ma Chitano perché ha messo una replica della live su Twitch guarda nel monito ancora sono le 15 e mancano due ore alla live no dice previ invio soggetti ma che spettacolo bellissimo la tavola Ouija è tipo Pokémon è bellissimo non si fa anche con la marra massimamente non gettata nella immondizia è strano è strano c'è qualcosa che non torna vede il quadro di Gesù Cristo il quadro che vedi ogni giorno è molto più pulito del solito e senza craft a tavola Ouija non me la fai perché c'ha paura Chitano giusto non si avvicina questo è il canale di Rubino vabbè ma è bello ah e rimane in play come su Pokémon e se non è triste è un cretino che se tagliamo già lo so provo a ricliccare provo a ricliccare ma è Undertale sembra ma non è Undertale che è no no ma che figata bello bellissimo come si chiama sto ragazzo si è Undertale ma sai perché lo so perché l'ho giocato l'ultima volta tre giorni fa peraltro mentre stavo inchiamato si ci ho preso perché l'ho giocato 4 giorni fa Anto Gitan bellissimo Undertale Gitan come protagonista è bravissimo grazie Anto come l'avevamo visto 38 minuti fa no è pubblicato il video l'avevamo visto guarda guarda a Yakuza non si capisce fa più ride non rallentato perché si perde l'impatto una delle poche volte sai che il rallent ti fa ride se vedi la caduta qua non vedendo la caduta e dovendo soffrire solamente dell'audio non è possibile allora ragazzi quanto tu l'avete in posa se no vediamo stasera vai 4 minuti fa bene Pasolini è un grande un grandissimo c'è un canale YouTube adesso ma come si si è passato su YouTube Pasolini è curioso intanto Pandora o Panettone come cazzo lo taglia ma così cioè tu vuoi che io mi esponga così lo so è una cosa molto seria però cioè tu vuoi davvero questo la spaccatura voglio sempre spaccature e discutere lo sai prima che io aspetta però devo interrompere sono pronto sono pronto allora prima di capire vedevo confessare sta cosa li confondo no come si fa non mi ricordo qual è quello con l'uvetta e quello senza ma come fai Panettone è quello con l'uvetta e i canditi allora a me piace più il panettone allora ricordatelo ma perché non me lo mangio mai non sono fan dei dolci cioè qual è quello con i canditi te l'ha detto Davide 5 secondi fa Panettone no il Pandoro come il Pandoro eh sì non mi ha detto Panettone no davvero davvero ma io c'ho un problema la memoria la memoria è un pesce rosso c'ho un problema ragazzi vabbè lo sai come sei ma io ho appena ma io ho appena confessato una mia debolezza da quando sono piccolo mi dicono che preferisci Panettone o Pandoro io dico ma quello che mi pare allora parto io panettone è una cosa brutta lo dice pure il nome stesso fa schifo mamma mia stai a sentire male è una roba veramente indescrivibile ragazzi madonna però vedi che è vero quello che avevo detto l'altra volta se tu estrapoli solo sto pezzo sembra davvero proprio un che sta recensi tipo un pezzo di merda capito indescrivibile mamma mia oro te lo ricordi perché è quello buono quello senza quei canditi di merda che sono di morte preferisco il Pandoro però c'è un problema c'è un problema beh attenzione con varie specifiche allora il vero panettone fatto di Cristo non del laboratorio ma artigianale con l'uvetta di una certa qualità il candito di una certa qualità è migliore però qualsiasi Pandoro compri quello di merda è più buono del panettone medio di base il Pandoro è più accettabile perché è una cosa spugnosa ci metti 8 chili di zucchero a velo quindi qual è quello di zucchero a velo tra i due Pandoro è lì la confusione io mettevo lo zucchero a velo sul panettone non era buono non si può confermare il Pandoro è fatto in modo tale che lo zucchero pernea ma non te lo danno abbiamo già visto questo poi grazie mille è la verità a parte il Pandoro è pure più burroso a me mi disgusta però a casa c'erano sempre entrambi ricordi il Pandoro è burroso è troppo burroso c'erano entrambi a casa di Pian Pandoro fatto da uno chef ma poi lo zucchero pelato è una cosa bella una cosa buona perché dobbiamo ottenebrarci l'esistenza con la sua assenza non capisco mettilo sul panettone no 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 grazie 27 mesi andiamo Harry Potter vuole che lo apra volete che lo apra saluto romano non ricordo questo sì sì avevamo visto questi in caverna la sera del 20 dicembre ufficio un mirino sì un mirino è già il mirino no sì sì un mirino chi è il mirino vai stavo stando buco penso che era le crociate scuola ti è salatino mi fa sempre ridere fa troppo ridere incredibile io sta cosa l'ho vista sul gruppo ma non l'ho vista bene io non ho capito no questa è proprio una cazzata non l'ho capito sta cosa l'ho cercato di analizzare non ha alcun senso come se stessi guardando alex e georgia per qualche motivo ma in realtà non era vero che stavo guardando loro danno per scontato che stavo guardando determinati punti ma non è vero quindi per arrivare a non si sa quale conclusione cioè che stessi guardando i loro seni credo che sia ah ok che sia la cosa ma non è avete ragione sì sì cioè nel senso non è che mi serve l'opportunità di stare al lupus per fare una cosa del genere confermo confermo ahia ultimo post allora vedi che non era un troll allora e buone feste anche a voi zero like mi ha fatto un cazzo a nessuno e poi tra l'altro un giorno fa cioè neanche messo in quel momento appositamente cioè avrebbe avuto senso l'ultimo post no zero aspetta no fammi leggere la premessa c'era la premessa mister dunque mister dunque e buone feste forse scarico ma lo metto in carica buone feste anche a voi aprite il link per vedere meglio ma il logo cerbero è per evitare spoiler di sorta vediamo il link per vedere meglio no era l'ultimo la mia dichiarazione di intenti se così vogliamo chiamarla se volete spiegazioni ulteriori siete liberissimi di invitarmi su discord per discuterne vediamo l'ora guarda beh secondo me si potrebbe fare una live dedicata live dedicata urge live dedicata si si gre si libererà da quei momenti di silenzio ma come faccio a prenderlo meglio tocca leggerlo bene vai smetterò di parlare negli spazi del cerbero smetterò di parlare negli spazi del cerbero trovo sempre un discreto numero di persone che dice cose come virgola che palle skip e altre critiche gratuite beh mi sono rotto il cazzo non mi volete il qui presente ray jackson sparirà dagli spazi del cerbero ma solo dietro pagamento avete capito bene se non mi volete pagatemi mille euro al mese e non scriverò più negli spazi social mille voi ma questo è tipo è tipo uno stalking al contrario strano spazi mille così il reddito cittadinanza è più alto del reddito mille per allontanarlo quindi se non lo paghiamo lui continuerà stagamorra ma non è stalking al contrario è stalking e basta è stalking che poi è un peccato con rigatto tra l'altro che poi è un peccato perché se ti servivano i sordi se facevi la proposta al contrario secondo me Simone premeva molto è estorsione sì che chiedevo io se lui faceva la stessa richiesta al contrario tu avresti premuto per concretizzarla mille per rimanere no per andare è questa è la proposta quella è la proposta mi dovete pagare mille euro al mese e io non scriverò più negli spazi social per andarsi al contrario non lo stai a dire e allora qua c'è un rischio e l'acqua c'è il rischio che li ottenga perché secondo me Simone le casse della Sdrubalini possono partire altri mille euro ho capito male perché non avrebbe avuto senso il contrario ma sarebbe stato allora una carrellata dei spazi scusate ragazzi se sto dedicando poca attenzione a questo post guarda mi sono sentito in colpa istantaneamente chiedo scusa spazi inclusi gruppo Telegram gruppo Facebook Cerbro Podcast gli amici di YouTube non ci sono neanche più io e gli amici del Wendigo server disco lo saprei di chat di Twitch come abitamenti di Instagram però spazi esclusi quindi dove non ci sarà dove non ci vuole andare gruppo Telegram di Marco Chitano grande Ray Jackson lo sapevo benissimo che eri lì no spazi esclusi esclusi dove non viene più dove no dove non c'è quindi non sono richiesti dove già non va ma non è detto no 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 fermi non è detto potrebbe venire o no fermi o già non va in quegli spazi o non sono inclusi nel pacchetto da mille euro esatto quindi se ti diamo mille euro comunque sul tuo server potrei rompere troverai basilo troverai basilo lì poi lì poi mi chiedi altri trecento a me vedi vedi dove non vale questo divieto cioè quindi neanche se ne andrebbe completamente dalle nostre vite altri mille euro a quel punto non li vale pacchetto completo duemila euro al mese Ray Jackson nel server di Xtor ci penso mi ha dato una mano server discord discord me manca la data lì discord di Marco Chitano gruppi facebook paralleli a quelli del Cerbero non strettamente collegati a esso gli amici insieme di Mr. Mare gli amici di Mark The Hammer e altri gruppi Telegram dei sopracitati al punto precedente DM su Instagram o email a membri del C quindi cioè si accollerebbe comunque Cerbero Boscaro Cerbero Party se invitato allora è tutto inutile ma che boi ma chi ti deve dare sti mille euro beh Galletto ha un suggerimento 50 centesimi a testa per ogni membro del gruppo facebook non è un eco scambio va bene effetti ricevo mille euro al mese voi ricevete la mia assenza non è una vera assenza no ma noi ti vogliamo bene comunque sarebbe uno scam assoluto l'ultima parte e anche delle mini recensioni esclusive per i Patreon su film se va avanti così secondo me la nostra community apre un group a un me dichiarazione seria dichiarazione fatta per il meme tutti e due al momento posso solo dire quello che è una dichiarazione provocatoria se volete saperne di più siete liberi di contattarmi su Discord per discutere no ti prego facciamolo intervenire su Discord meno uno capirete quando è tempo quindi non era questo l'annuncio definitivo manca un giorno una settimana una settimana prossima esci da casa vai al parco fai una passeggiata fai amicizia con un passante che cazzo stai facendo della tua vita però io sono affezionato io sono veramente affezionato di questi consigli reali tu lo vuoi mantenere nella tua cazzo di web di merda vai via ti sta facendo male tutto questo non frega un cazzo a nessuno sono d'accordo te prego no io non lo voglio non lo voglio mantenere nella bolla dico solo che non vorrei che passasse un messaggio ma vattene a San Pietro no perché dunque hanno fatto l'albero il presepe ma tanto Simone poi non sarebbe neanche conveniente perché non ha mai sganciato un euro sto stronzo capito in quattro anni ma ci ha mancato la sab appunto però dico ci segui da quattro anni io comunque ci sono affezionato però non sto dicendo che i consigli di Simone o cane pazzo non siano validi detto questo ragazzi ci vediamo per la terza live di oggi a San Pietro alle ore 21 in diretta da San Pietro vicino al Papa se ci riesco esatto con il Papa ospite con il Papa ospite un saluto a Papa Francesco ciao ragazzi ci siamo alle 21 sono già fuori casa sono al cinema che aspetto avatar caro il mio Francesco Renga t'ha risposto t'ha detto ciao a dopo ciao la dichiarazione vai 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 che scuoli sta deriva è lo cross che scuoli Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS